Ci siamo, 2 di maggio domani, 1 di maggio oggi, 20 maggio scade il discorso Zhang con Octree, è ovvio che come scrivono i giornali in questi giorni sapremo di che morte vivere, non di che morte morire. Quindi cos'è la situazione da raccontare e quali sono i nuovi aspetti? I giornali escono con questa notizia, Zhang e il rifinanziamento c'è la contraofferta di Octree, si lavora a Londra. Il patron cinese punta a chiudere la faccenda entro i primi di maggio. Ora, l'Inter ha fatto tanti sacrifici perché tanto abbiamo dovuto vendere, tanto abbiamo dovuto smontare, tanto abbiamo dovuto subire, tanto abbiamo dovuto non comprare, tanto abbiamo dovuto anche prenderci come palate di letame in faccia dallo stesso Sala che oggi rincorre le società, mentre prima faceva il figo dicendo sì, vabbè, io voglio fare lo stadio con chi? Quelli del Milan non si capisce chi sono, boh, ABC, quelli dell'Inter neanche a parlarne, sì, vabbè, parlo con Scaroni, che lo conosco, Enel, parlo con Antonello, però di ciccia ce ne è poca. Ora invece c'è più ciccia, nel senso che al di là del discorso che il Milan sta chiarendo sulla proprietà dove si dice totalmente estraneo a quelle che sono tra virgolette le accuse che verrebbero mosse in questa inchiesta, quindi il Milan dice siamo puliti, siamo di Redboard, non petteci i coglioni e stiamo anche facendo lo stadio, i debiti non ne abbiamo, abbiamo fatto un'annata non spettacolare, però comunque un secondo posto in campionato, nelle coppie potevamo far meglio, però eravamo a fine ciclo, quindi una società al Milan che si definisce solida, con Zlatan in capo a tutto, stanno cambiando l'allenatore, quindi ok, dall'altra parte l'Inter che è cambiata, perché tutti i sacrifici che vi ho elencato prima, che ci sono pesati come tifosi, perché comunque si può dire tutto di Zhang, ma quando lui è arrivato, guardate i miei video del 2016, io ero gasato, perché la potenza di fuoco dei cinesi quando entrano nel calcio è pazzesca, se tu dai 12 milioni a Pelé e devi 10 a Ramire su viceversa, quando prendi Cannavaro, prendi Lippi, poi c'era Suning, persino quella faccia di non dico cosa, di Capello, è venuto a lavorare con noi, tanto che ci odia, ma era salito sul treno di Suning, perché poi c'era il discorso della squadra, quindi l'Inter e il calcio cinese hanno in grande crescita, poi sappiamo cosa è successo, però in questi anni poi di grande sofferenza l'Inter ha avuto un grande management, anche e soprattutto grazie al capo, perché il capo è responsabile, sì, se fai una cazzata è giusto dire fai una cazzata, se prende e dice ragazzi fate voi, sul consiglio di Moratti dice lui, o dice Moratti o dicono tutti, prende Marotta, che si unisce a un ausilio che non è simpatico ma che è molto bravo secondo me, molti dicono di no, e che probabilmente prenderà in mano tutta l'Inter quando Marotta lascerà, si crea una nuova Inter, che comincia ad avere sempre meno debiti, a sistemarsi con sto cazzo di fair play, mentre le altre squadre continuano a zanzare, ma questo è un altro discorso, è un'altra parrocchia, ma un giorno ci entreremo in quella parrocchia, perché comunque ci sono squadre che vanno avanti in Champions, PSG, quello, quell'altro, dove ci sono anche lì indagini ferme da una vita, non si capisce, a un certo punto è esplosa la bolla del City e poi su questa bolla non si trova più, ok? Perché poi gli zanza sono sempre dietro l'angolo. Cosa succede? Che dopo tutto questo soffrire da parte del tifoso interista, si arriva però a dei risultati sportivi e quando io, prima di Marotta, dicevo guarda che se vince arrivano i soldi, eh no, prima bisogna risparmiare, poi sai, poi se risparmiamo piano piano e io dicevo guarda che chi più spende meno spende, se vince arriva il grano. Allora oggi la gazzetta, guarda a caso, dopo lo scudetto, ho scritto uno scudetto che vale 250 milioni, ma va perché la Rosa è aumentata di valore, come era aumentata con lo scudetto di tre anni fa, perché gli sponsor ti pagano i premi, perché c'è il merchandising. Oltre a tutto questo ci sono meno debiti. Oltre a tutto questo vincere aiuta a vincere, aiuta a stare insieme, aiuta a gasarsi e l'Inter è una squadra dove, a parte qualcuno che vuole dei ritocchi di ingaggi, nessuno vuole più andare via, tutti vogliono venire. E in più c'è finalmente, perché poi il tempo, sembra ieri che abbiamo iniziato a conoscerci sul web, era il 2016, 2015, quando era uscito il mio libro, avevo iniziato a usare YouTube, sono passati nove anni, quasi dieci, ormai cavolo, e parlavamo di stadio anni fa, vi ricordate? Ecco, adesso c'è discorso stadio. Quindi, tornando a Zang, ora vi dico quello che dicono i giornali e quello che credo sia corretto e giusto raccontare, perché per me quella è la verità. Poi, che ci sia dietro un compratore che vuole l'Inter, non mi sorprende, lo so, e non solo lo so, ma ce ne saranno sempre di più. Però è anche vero che Zang dice, ho fatto soffrire i tifosi sofferto io, mi sono preso del celtrone, mi sono preso le tirate d'orecchie dall'amministrazione adesso dell'Inter, dell'escomunale comunale sull'Inter per lo stadio. Adesso che c'è da raccogliere? Vendo per pochi soldi, io mi devo dai coglioni e no. Adesso sono campione d'Italia, ho portato la stella, ho portato altre coppe minori, ho fatto due finali, ho portato dei grandi management, degli ottimi allenatori e dei preparatori buoni. I tifosi sono i migliori d'Italia perché lo abbiamo testato, forse tra i migliori d'Europa e del mondo. Perché devo farmi da parte ora che il Milan fa lo stadio di là e io lo posso fare di qua a Rozzano? E sembra con Antonello che il discorso di Rozzano vada avanti e che questa volta veramente sia l'Inter che il Milan paia, paia abbiano sfanculato il sindaco sale San Siro, che potrebbe veramente diventare lo stadio dei concerti, degli eventi? Perché devo mollare adesso? E infatti non molla. Cosa dice il giornale? Da una parte i festeggiamenti, dall'altra i giorni della verità. Quindi i legali sono al lavoro a Londra dove c'è questo gruppo PIMCO che dice pago io OCTRI, ti do 400 milioni in tre anni e tu paghi OCTRI e rimani in carica. Però c'è la controfferta perché adesso è vero che Zanga ha dei primi privati ma con l'Inter non ha questioni pendenti se non queste. Quindi adesso siccome chi ti presta i soldi guadagna perché si chiama credito valtellinese, credito artigiano, credito agricolo, ok? E le banche vivono sul fatto che tu fai dei debiti e loro ti fanno credito. Quindi guadagnano sui soldi che ti prestano. Quindi uno è contento a prestare e uno è felice di ricevere. Ovvio che ci vogliono le garanzie ma quando? Quando nella storia Zanga ha avuto così tante garanzie? Uno la continuità, due lo stadio a Rozzano o a San Siro ma lo farà, l'Inter lo farà e quindi lui tutti lo faranno, pian piano ci siamo, ci sarà la grande svolta agli stadi. Il mondiale per club che non c'era mai stato, la continuità a partecipare alla Champions, il fatto che quelli che ti danno i soldi, che dicevano Cristo, adesso gli do i soldi, questo qua li spende oppure non li spende, arriva ottavo, settimo e invece no, perché l'Inter con una grande management e giocatori seri e allenatori bravi in questi anni ha vinto e quindi c'è una continuità anche nella vittoria. Quindi dicono caspita però noi gli diamo i soldi e questi qua vincono la stella. Hanno problemi? Eh beh, li risolvono loro. Una volta vendono Lukaku, una volta Kini, una volta Gossi, poi riescono comunque a comprare giocatori che poi valgono di più. Hanno preso questi portieri a zero, adesso vale 50 a minuto nana. Adesso c'hanno qua Turam che l'hanno pagato a zero se domani uno paga la clausola, perché magari il PSG non prende Ozyman che va a giocare, non lo so, in Arabia, ti prendono Turam, ti danno 85, l'hai pagato a zero. Ciala oggi vale quanto valeva Gerard anni fa, con tutti i gol, gli assist e la classe che ha, dicono caspita, questa rosa vale 6-700, sì poi è vero che è lo stato patrimoniale. Quindi anche chi ti dà i soldi è più invogliato, perché vede, perché è la parola che giudica, come dico sempre, non è Zan che giudica, è la parola che giudica. Loro dicono stiamo prestando soldi a un soggetto solido, stabile e che nel calcio è protagonista. Quindi questa squadra ha dimostrato, questa società scusate, che male che va dei soldi ce li ridà. E non solo ce li ridà, ma ci paga anche gli interessi. Prego signor Zang, te li do, adesso sembra che fanno una gara a prestaglieli, perché lui è diventato solido e vincente. Non solidissimo, perché sennò non chiederebbe i soldi, però solido e ha una continuità, perché l'Inter ormai sono da spalletti in poi, va sempre in Champions e solleva sempre qualche trofeo, a volte importante o no, finali perse ma ci arriva. Caspita, adesso ci aspetta lo stadio, il mondiale per club, l'Europa ormai ci riconosce come una squadra che fa abbastanza paura, chi ci incontra si caga d'osso, prima ci prendevano in giro. In campionato, comunque degli ultimi quattro, non abbiamo 22, negli altri, a parte l'anno scorso, siamo stati protagonisti. Quando andiamo in Arabia, torniamo sempre con la Coppa e allora la gente ci vuole prestare i soldi. Quindi, in conclusione, siamo alla fine. Ma, dice, addirittura sembra che io o Tria abbia detto, no, guarda, zio, pronto, lascia stare Steven, ti do io, dammili tra un anno, lascia stare Pimco, facciamo gli affari tra di noi, tanto hai già tutto qua, ti faccio un foglio, ti scrivo, me li dai tra un anno e poi ne li parliamo così. Me li dai tra un anno, non me li dai oggi, firmiamo un po' lungamente, non devi fare nulla, lascia stare quelli di Londra e se poi dovessi vendere, comunque noi siamo qua. L'Inter è sempre impegno nostro, ma tu hai impegno, ma tu hai un anno in più per gestire quello che è il Mondiale Preclav, introiti, introiti anche pubblicitari e per guardarti intorno se hai qualcuno che invece vuole venire, ma ha la cifra che vuoi tu, così sei contento tu, sono contento io che li riprendo, contento tu che vendi e sono contenti i tifosi che sanno che o rimani tu o viene qualcuno che però ti dà i soldi, quindi dandole a te li dà anche all'Inter. E siamo tutti felici, ci abbracciamo. Questa è la situazione, ma ricordatevi che questa situazione è possibile per due motivi. Uno, un management capace, perché dietro una grande società c'è una grande società. Due, per i risultati sportivi, che hanno permesso poi di dare luce a quello che è l'obiettivo di una società di calcio, cioè a parte il fatto dello sport come di ontologia, ma vincere. Quindi l'Inter è messa molto meglio, anche se la gente ci prende in giro, avrà degli introiti e ha tempo e spazio per fare manovre in maniera più agevole. Addirittura adesso c'è la gara a prestargli soldi. Questo, secondo le cose, è che le loro, secondo le mie e quello che mi raccontano, comunque ci sono compratori importanti che vorrebbero acquistare all'Inter un pezzo. Quindi ennesima cosa positiva. E ricordatevi che mi hanno nominato veramente lo stadio per Carrozzano. Adesso abbiamo, comunque vi porterò poi qua l'ex vice sindaco, un po' di assessori, anche l'altra volta il sindaco. Vi porto chi volete, così parliamo dello stadio, perché anche qua il Milan va a San Donato, ma l'Inter a Rozzano è molto avanti, per ammissione un po' di tutti. Cercheremo di capire, si era fermata su Rozzano, così come è stato presentato un po' di San Siro, però sappiate, quando vi dico guardate lo stadio e vedrete il futuro dell'Inter. Tutto sta migliorando, il peggio è passato, quindi come mi avevano detto cadremo in piedi. Non so in che modo, adesso lo sapremo insieme tra qualche giorno. Se la notizia vi avviso, se no cadremo in piedi, che è quello che mi hanno detto ed è quello che un po' girava in società. Forza Inter!